bella d'ora che sono ferma ma noi stiamo andando avanti sulla sagga di Sam dopo aver fatto i primi due scenari insieme a Dan l'altra volta adesso andiamo avanti adesso Gov sta mangiando la sua zuppa e adesso Vegeta e Sam faranno un combattimento allora vuoi aiutarmi a riscaldarmi? in che senso vuoi che ti scaldi l'ho? miserabile farò molto non ho forse detto che ho considerato come un allenamento metticela tutta! dopo l'umiliazione che ti ho infritto sarà il chiarabletto ah quindi è così che sta mandando le cose e Vegeta! e Vegeta! ehi! 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 yuhuuu! è il momento di mettercela tutta! bella! bella Vegeta! bella Vegeta! quarto cotto! forte cazzo! barriera perfetta! siiii! e se non vuoi ascoltare in questo video io voglio ascoltare un male San Diego Bernabeu, Ant e Samone Natarelli, Samone Posselli Mateo Xix e infine Andrakyla e andiamo avanti ci becchiamo il lampo finale di Vegeta siccome abbiamo le cellule di Junio la vuoi a non perdere queste tanto dopo c'è Trunks che ci deve battere che viene a combattere con noi questa è la Vegeta che... non mi sia Non c'è il genere che ti s'aguarda in giù Ma che è tutto stiato Ecco, io non ho capito Cosa coda? Trunks! E fuori Oddio che palle Si Oddio che palle Niente a tua madre che si mette il ciclo Si mette Che si mette Niente a tua madre che si mette sempre Le pillole per Per fare i bambini Niente Stuttissimo Che sta dire Che si mette la madre Tu che ci Che ci Che ci Che 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 ti ha detto io? E adesso uccidiamo Trunks Andrà in paradiso Trunks E non vedrai mai più il tuo padre E tua madre E mai Avrai una Una fidanzata Perché sei frocio Allora Attrave Adesso andiamo avanti corpo perfetto sapriamo andiamo così sapataggio e andiamo qua inizia il gioco di serie adesso useremo goku contro se che bella cosa siiii ma che stif addomina ehi sermo ti apro in due come un'anzia un borgio siiii vediamo cacare ma che cosa ad aprire ah vuol dire come lo apre come una zappone certo vediamo come andiamo avanti mi sta prendo l'u andiamo avanti kame kamea kame kamea te trasporta oh 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 no e mossa che sotto io prima col te sei il misteri fa quante faccia sei per san genna che cosa l'u 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 che 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 arriva oh ch ora la bella ho trovato la sfera ma gli ho fatto un cazzo eh, questa è la bella faccio troppo schifo come stessata eh, a voi questo è solo un zolli è la pura verità ciao ciao uggiii che sto in aria non mi ha beccato raga, se non ha mosso gli posso far vedevarli un po' arriva Mr. Bu un cazzo che ha fatto, un cazzo non mi ha chiamato comunque non sono morto non sono morto ma comunque ci sta ancora con quello era solo l'intervento di Mr. Satan che voleva combattere l'ha già fatto ahahah o forse era solamente ritirato poi Mr. Satan voleva fare il figo ma a me mi sa... mai guarda 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 quanti cazzosci stai andando a sé perché tutti questi cazzosci non sei perché tutti questi cazzosci da 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 ecco perché divenne una zampogna perché GON sta andando a a manetta e per concludere signori non può di certo mancare lei una super kamehameha e quindi signori ci vediamo al prossimo video ciao